C'è un uomo, è con l'amante e decide di andare in un motel dove ci vanno tutte le coppiette clandestine a consumare. Si chiede, arriva davanti al motel, parcheggia, vede la macchina del socero. Mamma mia, mamma mia, Armisocero, quel bastardo! Ora lo purgo io! Si chiede, scende di macchina, graffia tutta la macchina, ci va a fondo, prende, rimonta la macchina all'amante, andiamo in altra parte, vincendo Armisocero e si va via. Si chiede, vanno in un altro motel a consumare. Il giorno dopo il socero va a trovare la figlia a casa, si chiede, c'è anche il marito. Il marito vede il socero arrivare tutto nervoso, fa, oh Mario, ma che è successo? Ta zitto va, ieri ho prestato la macchina alla tua moglie e ci aveva andato in chiesa o me l'ha riportata tutta graffiata.